Dal 7 al 12 luglio ci sarà il Benevento Sport Village, spero che sia un'amministrazione che valorizzerà molto il territorio. Ho voluto lo sport come fulcro di questa manifestazione perché a me personalmente ha dato tanto, quindi spero che darà tanto anche alle persone che parteciperanno a questa manifestazione, perché per me lo sport è un punto fermo della mia vita, lo sport da autostima, da sicurezza, quindi spero che, io penso che possa aiutare anche i giovani. La piazza come sarà organizzata? Sarà un village con campi da beach, street basket, calcio in gabbia, per questi giorni sarà il bungee jumping, un'area baby dedicata ai bambini e un'area dedicata alla Seltag. E poi ci sarà il 16 come è stato già annunciato per chiudere il concerto di Clementino. Sì, ho voluto fermamente Clementino perché piace molto a me, diciamo che siamo coetani, poi mi piace come cantante e io rivedo molte delle mie idee nelle sue canzoni, quindi è stato questo il motivo della scelta. Perfetto, quindi appuntamento da 7 a 12 in piazza di sorgimento, ci saranno quindi come detto stand, momenti dedicati anche all'animazione. Ci saranno punti food, punti cocktail, ci sarà un parco per le esibizioni delle palestre, chiunque si vorrà esibire, diciamo, con spettacoli. Il palinzesto ufficiale lo faremo uscire verso maggio.